Severa bocciatura da parte del Ministero dell'Ambiente del tanto pompato e sbandierato piano dei rifiuti della Regione Sicilia. Il giudizio del Ministero è implacabile e a tratti anche mortificante. Infatti non solo si contestano a musumeci, Piero Bone, dirigenti dell'assessorato, la mancanza di linee guida e informazioni inutili ma anche errori grammaticali. Nella relazione del Ministro dell'Ambiente, composta da 40 cartelle, si legge carenze nelle informazioni e nelle analisi tecniche fondamentali per valutare la sostenibilità del piano e gran parte dei contenuti risultano inutili a tale scopo. Inoltre, importanti decisioni sulla chiusura del ciclo dei rifiuti sono rimandate a future valutazioni e non si comprende quale sia il percorso per raggiungere alti livelli di raccolta differenziata. Su questo aspetto, peraltro, i dati forniti dal governo musumeci sono disformi rispetto a quelli forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Mancano le linee guida che non possono essere demandate agli enti locali e non c'è traccia dei necessari termovalorizzatori. E poi ancora frasi di difficile comprensione che utilizzano terminologie e definizioni che non trovano riscontro nel dettato normativo europeo nazionale in materia di rifiuti. Le osservazioni del Ministero rientrano nel normale ITER di approvazione del piano rifiuti. Non c'è nulla di eccezionale, anzi benvengano, risponde l'assessore regionale all'energia e servizio di pubblica utilità Alberto Piero Bon, commentando le osservazioni del Ministro dell'Ambiente sul piano dei rifiuti. Il piano va integrato col contributo di tutti per avere il miglior risultato possibile. Alcune critiche sono costruttive, altre le valuteremo, ma c'è talmente tanto da fare che ogni aiuto è sempre utile. All'interno dell'ITER per approvazione del piano è previsto il rilascio della VAS, la valutazione ambientale strategica da parte dell'assessorato all'ambiente. La procedura dà 60 giorni di tempo ai soggetti interessati e competenti in materia ambientale come sindaci, associazioni e lo stesso Ministero per presentare le osservazioni. È la prima volta che la Sicilia decide di dotarsi di un piano rifiuti, prosegue Piero Bon, è un lavoro storico, un documento importante di pulizia e trasparenza che il Governo sta portando avanti. Anche altre amministrazioni di ritenute virtuose hanno ricevuto osservazioni anche più dure, eppure oggi le prendiamo a modello. Le osservazioni del Ministero fanno parte del normale ITER, seguito per migliorare il piano. Si tratta di centinaia di pagine e allegati che vanno integrati con i suggerimenti di tutti, dei territori, delle opposizioni, dei sindaci. Non ci sarà alcun allungamento dei tempi, conclude l'assessore Piero Bon, integreremo il piano e andremo avanti nell'interesse di tutti i siciliani.